Orazio, non sei un curazio? No, al contrario. Comunque io stavo ritenuto. Sì, pure lui. Oh ragazzi. Tocca a me? Io c'ho da farsi. Anche io. E Giorgio che ci ha dilungato. Ah ragazzi, la mo' se ne ha mossa per cortesia. Cancellate questa parte per fuori. Che ho detto che c'ho da fare stasera. Eh, non ho c'ho. Devo andare a cena con Giorgio io stasera. Giovanna mi presenti? Allora, Giovanna. Sì, ma ti presento io. Presentavi da solo, dai. Prendi sto coso. Ma riconosciamo. Riconosciamo. No, no, farlo presentare. Allora, adesso parla Orazio Fermiani, che è famoso anche per il suo canale YouTube, Alba Mediterranea. Grazie, grazie mille. Per tutti i video che propongono lui. Ma fai vedere anche la cosa, oh. Chi ne hai fatto? Eh, non è importantissima. L'altra la faccio vedere io. Sono delle caricature che ci hanno fatto per regalo per Natale. Fai vedere. Fai vedere sul video. Sì, sì, fai vedere. Giovanna, gira là un po'. Eh, ma ti devi avvicinare a fare la foto. Forte. Gira che c'è quella di Giorgio. Ah, ce ne stanno due. L'altra. Saranno lo stesso verso, no? Ma questa è messa anche in rete. Non questa. Non si vede. No, le metterò in rete poi. Ah, così quella la vedete. Sì, sì, lui, è che ora. Leggete, studiate e ignorate. Non è un caro armato. Vai, io la lezione. Qui a noi ci salverà una cosa sola e poi c'è subito una parola a lui. Possiamo parlare, discutere, è meglio il fascismo, il comunismo, la devoluzia cristiana, la democrazia come l'intendono gli americani. Ricordo a tutti che i maggiori partiti nazisti nella storia dell'umanità stavano in Inghilterra e stavano negli Stati Uniti. L'Ingberg sarebbe stato candidato alla presidenza degli Stati Uniti come nazista. E questo va bene. E l'hanno terminato. Allora, da quelli che poi mandavano i loro militari a combattere in Germania e ci avevano in galera i genitori di questi che non avevano preso la cittadinanza americana per parlare della democrazia americana. però io sto con Trump. E la cosa positiva è che finché Israele avrà le armi... Oh, è un momento, ero quella a me mi stanno registrando. Non mi fate dei parolacci. Allora, stavo dicendo che ingraziando nostro signore qualunque signore che noi crediamo, lei ha un bel cappello, Israele ha le armi, le compra, le modifica in meglio che Israele è rimasto l'unico paese di tradizione occidentale. Non a caso quelli che stanno in Israele sono quasi tutti d'origine tedesca. E certo non prendono gli ebrei... Vitte l'europea, diciamo. Vitte l'europea. Non prendono gli ebrei quelli che fanno come diceva il buon Salvatore e Malerba, buonanima. Quegli italiani che sono i romani sono i peggio. Però viva Israele. E chi lo creò? Bene, lascio la parola a lui finalmente. Grazie, troppo gentile. Va bene. Allora, io mi sono fatto in genere parlo a riabbraccio. Oggi invece leggerò qualcosa di veramente molto tedioso che deve arrivare molto fastidiosamente alle orecchie vostre perché così capite bene che cosa è il messaggio che voglio trasmetterle. Cante pagine. E parlo del fatto che signori Stati Uniti che per la demagogia mediatica imperante da 70 anni a questa parte anche in Europa passano per essere i protettori dei deboli i portatori della democrazia della libertà anche attraverso le armi in realtà sono tutt'altro. E vi dico questo. No, no, io ti fio a loro ragazze. Pronti? Allora, la cosa va definita bene. i signori libertari democratici e assolutamente repubblicani sono quel paese che negli ultimi da che sono nati cioè negli ultimi 240 anni hanno avuto belligeranze contro tutti i paesi del mondo praticamente per 223 anni. Cioè solo 27 anni non hanno combattuto. E allora adesso vi faccio l'elenco. dal 76 all'83 guerra di indipendenza americana e poi Cica, Mauga e guerre panamite così tanto per cadere. Dall'84 al aspettate che giro pagina al 95 guerre indiane assortite Chamacaua nord-west guerra indiana eccetera eccetera Trascio nel dettaglio dal 1796 al 1800 nessuna guerra un quadriennio anche quinquennio senza guerra dal 1801 al 1805 guerra barbari cioè dei barbari no? qui è scritto con la Y ma noi i barbari ci ricordiamo chi erano no? Poi dal 1807 al 1809 altri tre anni di pace dal 1810 gli Stati Uniti occupano la Florida dell'Ovest che è a mano spagnola ancora nel 1811 la guerra di Tecumse che poi seguita anche nel 12 nel 13 a cui poi nel 12 nel 13 si aggiunge la guerra ai seminole e contro sempre l'espansione verso la punta di oddio del famoso ponte sull'acqua adesso non mi viene in mente della Florida ecco dal 1814 la guerra ai Crick agli indiani Crick è sempre l'espansione anti spagnola in Florida è contro la pirateria dei barbari nel 1815 sempre guerra barbaresca e antipirateria 1816 guerra seminole e antipirateria fino al 1820 nel 1821 al 22 la guerra antipirateria è seguita fino al 23 anche 24 e poi la spedizione di Yellowstone contro gli indiani Yellowstone 1826 nessuna guerra 1827 guerra Winnebago 1828 1830 pace 1831 guerra contro i Sax e contro i Fox etnie indiane le guerre contro Falco Nero nel 1832 1833 contro i Ciroghi nel 1834 contro i Ciroghi Poni e altri 1835 Ciroghi Seminole Crick ed altri 1836 Seminole Crick Missouri Vaiova border guerra del confine quadri confine 1837 Ciroghi Seminole Crick Osage e Baccio e poi ancora 1838 Ciroghi Seminole Baccio Agerli e poi altre etnie 1839 Ciroghi e Seminole 1840 Seminole e poi contro le isole Figi 1841 Seminole invadono forse navali invadono Mekin le isole Mekin le isole Gilbert e Samoa che prima erano francesi e spagnoli 1842 guerra continua contro Seminole 1843 guerra in Cina portano la guerra in Cina sulle coste e invadono anche la costa africana ma alcune cose tipo la repubblica della costa d'Avorio quella zona lì adesso non viene freedom come chiamolo si chiama va bene non mi viene in mente non mi viene in mente scusate 1844 le guerre indiane in Texas 1845 idem 1846 guerra messicano statunitense e contemporaneamente anche le guerre contro le tribù indiane del Texas 1847 idem 1848 idem con la giunta della guerra dei Caiuse e 1849 idem anche con il Navajo e poi ancora 1850 quindi se sorrisi subito il Navajo no perché è tutta tre anni la guerra quindi non so la resi va bene e poi ancora 1850 idem appunto come avevo detto prima 1851 quindi guerre contro i Caiuse South West Navajo e Abash le guerre di Yuma dello Utah e delle altre guerre indiane che non sto a dire e poi ancora 1852 tutti quelli di prima con la giunta anche degli Yuma Yuta Gaiuse South West eccetera 1853 anche con gli Walker e poi 1854 tutti questi contro anche gli Schismich e poi anche 1855 tutti questi compreso poi gli Achima i Winnas i Clicitat i Budget i War Sound e Rover Guerre poi le Isle Figi e l'Uruguay addirittura l'Uruguay 1856 tutte quelle di prima meno qualcuna l'Uruguay aspetta poi 1858 anche con gli Spock and Kerr Galen e poi anche i Palus gli Appalusa e sempre con le Isle Figi anche e l'Uruguay 59 idem con patatine 60 contro i Paiute contro i Caiova contro i Comanci gli Apashi Navajo e poi altri che Tranascio no no c'è ragione hanno rotto le Vallotture hanno rotto le Gallagher no no Tranascio Tranascio no aspetta arriviamo arriviamo a quella di Grosso arriviamo alla guerra di Grosso arriviamo alla guerra di Grosso 1861 1865 ovviamente la guerra di Secessione e poi ancora le altre guerre indiane che non sto a dire fino al 1879 contro i Cheyenne gli Schipeter contro il Bianco la Tribù del Bianco e poi dal 1880 al 1884 gli Stati Uniti invadono il Messico dopodiché altre guerre indiane che non sto a dire per vari una decina d'anni finché poi arriviamo al 1893 quando di nuovo 92 quando di nuovo invadono gli Stati Uniti le Hawaii e il Messico cioè gli Stati Uniti le belle spiagge me le avevate appreso è certo 1897 incredibilmente pace e ho finito tu hai ragione però tu mi devi dunque alla trasmissione di Gabriele La Porta dove sono stato ospite per parecchi mesi quella che registrava a Mariunti che andava alle due di mattina mi domandò secondo te caro Norberto che cos'è la pace e io ti dissi una parentesi tra una guerra e l'altra tra una guerra e l'altra allora gli Stati Uniti non hanno fatto altro che quello che hanno fatto gli antichi romani no 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 gli ingressi no 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 non in questa non in questa maniera così ma torna sempre pesante uno deve leggere i libri di quello che facevano i pelli rossa alla gente che stava lì a coltivare giustamente arrivavano arrivavano oggi quanto sei bravo per coltivare la terra il giorno dopo che andavano a violentare le donne che tagliavano la testa allora io ho stato difeso ai pelli rossa purtroppo no no lui dice avrei fatto uguale infatti sono stati sterminati giustamente ci sono pochissime di bupive e se li vedete i documentari dei pelle rossa guardateli in faccia e dimentiché se tu non li incontri di notte se non gli spari una fucilata a certe facce e ragazzi i poveri inviati ma quali Stati ma non avevano il senso di nazione di terra se si fossero sviluppati ma se ma gente gente che si è tagliata agli alberi gente che si è tagliata agli alberi per fare la prateria e questo le dovete sapere gente che se si fosse sviluppata lei tecnicamente culturalmente avrebbe fatto le navi per invadere loro l'Europa e perciò il mondo il mondo ecco il mondo è una serie di invasioni reciproche ma i poveri indiani non l'accettano non l'accetterò mai ma come no dai per favore allora andiamo avanti e questo l'eroidacchio perché poi perdiamo come mondo culturale e politico di destra sacco gli indiani posso dire allora 1898 fino al 1901 guerra filippino-americana che è il seguito della guerra ispano-americana e poi le vuoi liberare filippine se non c'è ci spagnolo ma me fate seguità per la miseria e che cavolo dai poi dal 1913 al 1934 guerra delle banane che sembra una cavolata ma è una cosa molto importante che ognuno di queste date ci avrebbe bisogno di libri di storia non di elenco perché ovviamente non è il momento non c'è il tempo poi 1835 1840 5 anni di pace perché preparavano appunto la guerra della seconda guerra mondiale ho tralasciato dal 1914 anche la prima guerra mondiale ovviamente avevo partecipato proprio la prima guerra mondiale certo allora 1941 1945 seconda guerra mondiale 1946 occupazione delle filippine e Corea del Sud 1947 invasione della Grecia perché ricordiamoci la guerra civile greca 1848-49 nessuna guerra 1950-53 guerra di Corea 54 guerra in Guatemala ho finito 1955 1975 guerra in Vietnam più altri corollari vari che non sto a leggere per non tediarmi troppo 1976-78 nessuna guerra e poi da quel momento in poi la guerra finanziata per conto tersi in Afghanistan contro la Russia dal 1979 fino al 1992 mi pare 94 e poi tralascio tutto il resto ma solo per dire 1987 guerra in Golfo Persico 88 ugualmente il Golfo della Sirte i missili contro la Libia nell'89 la prima guerra del Golfo 91 uguale 92-93-94-95-96 conflitto in Iraq 97 per fortuna nessuna guerra 98 Iraq e Afghanistan e Sudan e poi ancora Kosovo nel 1999 2000 nessuna guerra 2001 fino ad oggi guerra in Afghanistan in Pakistan Yemen Iraq eccetera eccetera senza contare finanziamento di 20 gruppi di Saro in tutti i mesi tralasciamo cioè questa è una banda di delinquenti matricolati della più becera e oscura dinastia di d'uncinacità di d'uncinacità di d'uncinacità sì di più allora c'ho la foto su ora e il portafoglio tutto questo tutto tutto questo per dire è arrivare poi alla concentrazione in una pensiero in una conclusione terminale che cosa vogliamo dire di queste persone intanto dobbiamo dire una cosa importante che non c'è nessun presidente americano che non abbia fatto guerre nessuno tutti quanti hanno fatto almeno una guerra magari minuscola di piccola importanza con quella contro i seminole ma l'hanno fatta allora noi vogliamo dire due o tre cose intanto che noi sappiamo bene che i presidenti americani sono sempre burattini esattamente stati burattini come Renzi e tutti gli altri presidenti italiani a partire da 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 gasperi che tralasciamo chi era che cosa faceva i suoi antenati eccetera eccetera la sua la sua discendenza ovviamente no etnica anche e quindi noi oggi dobbiamo ancora maturare noi intendo dire uomo della strada deve maturare la consapevolezza di chi ha di fronte cioè questi con il sistema del controllo mediatico dell'informazione della formazione della cultura ci hanno stravolto tutte le vere notizie del mondo reale che avrebbero dovuto trasmetterci quelli che hanno vissuto gli eventi invece questi dominando il controllo dell'informazione ci hanno dato informazioni osannanti per la loro parte per la loro diciamo sono stati dichiarati eroi? no per la loro derivazione per la loro diciamo provenienza sia storica che culturale che religiosa che morale eccetera quindi noi oggi abbiamo una percezione noi diciamo persone della strada una percezione degli Stati Uniti diciamo edulcorata molto euforica così entusiastica no ma non è casuale questa è stata intenzionalmente indotta noi oggi viviamo in un'informazione in cui anche le informazioni che apparentemente sembrano di controinformazione in realtà molto spesso sono controllate da loro e quindi fanno la contro controinformazione ecco perché noi qui nei gruppi che noi rappresentiamo con cui abbiamo contatti non riusciamo a creare una margama non riusciamo a creare una coesione perché tutti definiamo l'uno dell'altro perché consapevoli di quello che sto dicendo io e di quanto è stato probabilmente detto anche prima in altre occasioni e anche forse prima che io intervenissi purtroppo questo clima di sospetto profondo induce ad un'azione molto ritrosa molto riservata e quindi nessuno riesce a esporre davvero quello che vuole intendere fine in fondo ed è questo il problema dell'opposizione politica attuale anche i grillini che apparentemente sembrano essere dell'opposizione in realtà non fanno gli interessi nazionali ma fanno gli interessi di altri che sono gli stessi che controllano gli Stati Uniti da sempre ecco il problema grave ho finito bravo bene allora cari amici intanto si prepara Giorgio Nettale e sentiamo il commento di Norberto sull'intervento di orazione no no è stato un bel intervento però potevi dilungarti sull'altro e per annunciare no hai fatto bene passava a dire che gli Stati Uniti sono sempre stati una economia di guerra se loro non fanno le guerre l'economia non tira ma questo è in tutti gli altri paesi soltanto loro le guerre tranne qualcuna le vincono gli altri paesi come la Francia i tedeschi come se svegliano la mattina vogliamo andare a prendere il caffè a Parigi si mettono la prima divisa di qualunque colore che capita arrivano arrivano a Parigi se si vedono e si bevano il caffè e dopo se ne arrivano la Francia si è inventata la regione stanniera per provare a vincere qualche guerra perché hanno venuto i francesi Napolone manco era francese ma un terzo più di quasi la metà dell'esercito napoleonico non erano francesi erano tutti volontari italiani l'Italia non c'era a quell'epoca l'Italia ci dovrebbe essere ma anche adesso io sono papalino in subordine perennio delle due Sicilie figuratevi mi piace questa Italia ci riteranno il Quirinale prima o poi e ho provesso che il Cassel Sant'Angelo non le prigioni con l'acqua fino alle ginocchia non alle caviglie come fanno di solito come si vede sui film comunque bando di scherzi è vero gli Stati Uniti sono sempre stati una nazione di conquista di non guido non guido piido p根 la